Il caso Marrazzo si arricchisce di nuovi ulteriori particolari. Umberto Gambino. Si dipana in mille rivoli il caso Marrazzo. Ancora da chiarire la posizione dei carabinieri finiti in carcere per concussione. Dagli ultimi interrogatori sembra che avessero tentato di disfarsi del video in cui avevano ripreso l'ex presidente della regione Lazio in compagnia del transessuale Nathalie. Per farlo avrebbero chiesto aiuto al pusher Cafasso e non al loro collega Tamburrino, accusati invece della ricettazione del filmato. Acquisita la testimonianza dal titolare sulla Cassia, secondo il quale proprio in quei locali i carabinieri tentarono di vendere il filmato scandalo a un quotidiano, ma senza successo. E le indagini dei carabinieri dei Ross avrebbero fatto luce su una serie di rapine ed appartamenti nei quartieri VIP di Roma, fra le vittime anche Renzo Arbore. L'ipotesi è che il gruppo dei militari coinvolti nel caso Marrazzo coprisse la banda di romeni ritenuta responsabile dai furti. Sarà poi sentito dai magistrati anche il sondaggista Crespi, che dovrà spiegare perché il 25 settembre ha spedito a vari giornalisti un SMS che preannunciava un filmato di Marrazzo con due transessuali. E il trans brasiliano Nathalie sarà nuovamente convocato in procura per chiarire le contraddizioni emerse con la testimonianza resa dallo stesso Marrazzo. In particolare dovrà spiegare come la droga finiva nel suo appartamento e soprattutto chi la pagava.